bentornati nella mia cucina oggi voglio proporvi una nuova ricetta di frolla salata che vi ho già proposto nelle settimane scorse in particolare questa volta l'andremo ad aromatizzare alla barbabietola questo lo si può fare se si ha a disposizione della polvere di barbabietola essiccata oppure nel caso in cui si abbia la barbabietola cotta quindi lessata andremo a ridurla in purea e ad aggiungere questa purea al nostro composto come sempre la frolla è molto semplice da preparare perché basterà ogni degli ingredienti quindi farina burro il sale la farina di barbabietola comunque la polvere o la purea e poi le uova per andare ad amalgamare il tutto metteremo poi riposare la nostra frolla una volta pronta l'andiamo a stendere su un piano di lavoro andremo poi a realizzare le nostre formine prima di infornare a 180 gradi forno ventilato per una decina di minuti andremo a spennellare con del latte la superficie dei nostri biscottini e questa volta io aggiungerò dei semi di papavero bianchi o comunque i semi che abbiamo in casa a disposizione anche questi sono dei frollini ottimi per un aperitivo per un antipasto che si conservano per qualche giorno e che sono un po diversi dai classici aperitivi o comunque antipastini finger food a cui siamo abituati vediamo insieme come prepararli ciao 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 Grazie a tutti. Grazie per avermi seguito e ci vediamo per la prossima ricetta.